Io ero già pronto No ma lo sai che cosa mi sta ispirando, votando, mi ispira Il Capkan è la mitra età di Capkan con il silenziatore, non so perché mi ispira Bello, siamo classificati uguali noi tre Ehi, così fa Bello che non mi cagali Si ho capito, usalo E' Dostoevsky E' Dostoevsky, madonna, poi fa freddo anche E' già iniziata, già iniziata E poi fa freddo anche, quindi bug perfetto Non c'è nessuno, Garrick Ha metto una natalita, per perire natalita Barte Eh, dove andiamo Eh, treni Allora, Doc Mira No, mira anche non ci sta Oh, lo buttiamo fuori No, non si può neanche buttare, Bart, tu scherzi Sai, una volta abbiamo fatto una libera Lui si è messa con questa skin, guardata mica nazista L'ho buttato per buttarlo fuori Tutte le amiche, tutti L'hanno buttato tipo un zero virgo Ma non è nazista, lo sai che è un ignorante di merda Non è nazista quella, è idiota L'impero tedesco E' la croce dell'impero tedesco No, era più o meno la stessa roba però No Si, gli Ubisoft sono bastardi Allora, c'è una differenza Allora, la spiego No, te la devo spiegare perché Si, so cos'è Si, so il professore del cazzo E' la prima guerra mondiale per quella steen Ma anche la seconda guerra mondiale è stato disana perché era un impero Sempre un impero Lo so, ho giocato anch'io a Kod, porco Dio Ti chiedevi, ti chiedevi, ti chiedevi No, no, no Xander spacca Togli il suo ADS di merda che non mi fa mettere il mira Xander, però io sto ADS e non mi metterò Xander, toglilo Xander, toglilo Xander, toglilo Bravo Ok, ora... Ok, ora puoi mettere... Ditti lo schifo che vuoi adesso qua Ma poi si... Fai l'intelligente, no? Mettilo qua sotto allo scudo Un trucco, un trucchetto sotto lo scudo È un trucco Un trucco che ti insegna Ecco qua Poi sei dato come metti un trucco Aspetta Chissà Ma io metto... dove lo metto un'altra mira? Non so dove mettere l'altro mira io Eh, corridoio Questo qua dove sono io Se riesce a metterlo qua Così vede la gente che scende le scale tutte Quanto scommetti che mo ci credo Oh abbiamo uno che guarda... Live Non mi ha mai preso Non mi ha mai preso grande Ma Doc Sander non mi ha mai preso Qua è scarsissimo questo Ibana Non mi ha preso neanche una volta Mamma mia, incredibile Ma va di culo, Gesù Che merda C'è uno alla finestra C'è uno alla finestra Là dove? Cazzo c'è uno... C'è uno sopra uno sopra Non ho il bug È il mio preferito quello Eh... Doc c'è uno alla finestra C'è uno alla finestra quella C'è uno alla finestra 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 C'è qualcuno Eh... Eh... Ma scendevo amica Tito al sciottavo Vabbè non pusciate non pusciate state sopra Cazzo cuscia Che sei fuori Sei fuori Sei fuori Uro Cazzo fuori Fuori Ma te che scende Ma è... Vecchi tempi con la cosa perduri zio Mi... Sai quante... Tutti i sponchi Mi guarda io la maggior parte di tipo Dei che oggi congivera per l'acqua Ma appena mettono Rigil Con quell'intervention di merda che è al posto del po' Ma voglio vedere quanti spawnpiders si smettono adesso Ti amo Xander Minocchio abbiamo un tuo fan nella live che ha detto ti amo Xander Ma quanti sono gli spettatori? Vabbè per adesso abbiamo uno Per adesso ne abbiamo uno Vabbè quello uno ha detto ti amo Xander 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 Ovviamente secondo Ali è un fascista È una sessa di merda perché C'è la skin C'è la skin shoppato Ci ha spesso pure i 15 euro Capito? Quindi vuol dire che ci tiene proprio Ma lo sparo in testa da qua Pam Pam Sai cosa ci sta prendere smoke dove in una stanza e mettere tipo Lo fucidiamo Sai cosa ci sta Barto? Barto sai cosa ci sta Barto Lo chiudiamo in una Oh me hanno Il corridoio principale Ho fatto una ki senza vedere chi mi sparava Ok vabbè La smorto Oh stiamo facendo perfect eh Oh se nessuno io Se nessuno io non cuore facciamo perfect È arabo? Come fa un mio convaino in classe quando non si capisce una parola È arabo? Dice è arabo? È arabo? È arabo? Sì Io dubbi che quel tizio sia qui fuori Dock mi ha spottato che di là quindi io voglio fidarmi di lui Anche Io tengo da ciò qua Questo tizio sta fuori e fuori Ho il pazzoide Cioè Che non entra Non passo sto qua Vabbè ciao zio Si è riso No era fk secondo me Il tizio era fk secondo me Cioè un fk È lì che si è fatta due kills Ah è Mirella Ho capito Era Mirella 66 milazzo Aveva 12 di ping Poi poi non l'aveva 12 di ping eh Giuro su dio 12 di ping Cosa uso qua? Il semi automatico o quello automatico? Un bug Normalmente qua userei il semi automatico e il fall Aspetta dai facciamo l'isciocco Però se vuoi andare sul sicuro usa il c8 Però qua userei il fall sincero Ma se vuoi andare sul sicuro il c8 No Vogliamo al mercato no a parcheggio vai Se lo usa il fall Già così l'ultimo l'ultimo round tutti ci mettiamo tipo quelli semi automatici Eh mi invita Marco porco dio Eh Marco ti attacchi il c8 ti abbiamo invitato ieri non sei venuto No spero non lo voglio invitare Non lo voglio invitare magari ci veniamo alla live facciamo quelli dei views Facciamo una views Facciamo una views Non invitarlo adesso che lui scrive adesso Aspetta dai si Oh ragazzi sta andando bene la live abbiamo già due persone Allora chiediamo agli spettatori Volete lo volete lo sclero da parte di Marco lo volete? Bella Mirella Guarda che è arrivato tuo amante meno che avevamo trovato il tuo moroso Cazzo è l'amante Cazzo sei omosessuale Questo qua è scritto nel commedio no? Cazzo sei Xander piace il cazzo eh Xander Si se gli piace pure il cazzo Quindi Di a tedesco gli piacciono i cazzo Marco saluta YouTube sei su una live saluta YouTube Marco saluta YouTube Ma perché è andato via Mirella? L'amante di Xander se n'è andato Dimmi Marco No ma perché è andato via No ma perché è andato via E' andato via E' andato via Ok Chi è colo te? E' indovina Ma lo sta giocando a Fortnite Cosa facciamo? Busciamo cazzo duro o stiamo qua, fuori? Vuoi guardarmi? Aspetta, lo faccio cercare La fatica mi è piaciuta tantissimo Oh, bella pizza la kebab Ma cosa? Stavo piando short break, questo è uscito! Voi come si state facendo le sega a vicenda? Xander si facendo la sega, si facendo le sega, che cazzo si fa? Si facendo le sega da lì? No, lì dove sta? Eh, stavo facendo le sega a vicenda, che è? Procedi in merda No, non è vero, io ero dietro che stavo cercando e guardavo sopra le finestre sopra Guardami sopra e tu ti facciano le sega, lo stai guardando sopra Lì ho sparato due cose, è stato detto Dai vero, ma ti annaccia addio, sto gioco di merda Ah, mi sono crepato per vetticciarli Ok, vedi, vediamo ora, ti avevamo vendicato, ti avevamo vendicato Ho legge un po' i commenti, Alì E ci sono dovrai solo live ad leggerli Cazzo da fare Vedi che tu sei morto Vedi che tu sei morto, leggi litano E che cazzo, non c'era YouTube Leggi, le dimmi da live come si chiama Eh, vai sul mio canale, vedi che non sei iscritto Zoccola la sapevo C'era ho iscritto, ho iscritto, non mi... Manco Dio Allora Elexander, io li sto guardando dietro Cazzo c'è uno gioco qua E' dietro le scale 1 eh, attento a uno dietro le scale Come ti chiami tu, aspetta Ali K Eh, meno che voglio guardare là con il drone un attimo Eh, eh, sto guardando con il drone C'è uno là perché Mi fa paura Allora, uno e quattro Eeeh, lo sto sguardo Ma dove cagare, Ali? Ma fai schifo Ma dove fai schifo? Ammazza, non vedo anche cosa stai facendo Potevi ucciderlo Mi mando il tuo video, Ali, perché non riesco a trovare il tuo canale Non riesco a trovare il tuo canale È nell'angolino, è nell'angolino Guarda nell'angolino a sinistra Ali, mi caghi, porco Dio Cosa? Mandami un messaggio su WhatsApp, te lo mando Fatti zitti un altro per te Non riesco a vedere la live, cioè non ti trovo su YouTube Non esiste Raga, non esiste su YouTube questo Non so qual è che trova da voi, la live No dai, ho preso Ho preso, ho preso, sei una merda Sei una pippa, sei una pippa Capito? Sei una pippa Zitto, zitto, è il rainbow È un gioco realistico, sei zitto Vedi, vedi il realistico, lo vedi? Guarda, mandami un messaggio su WhatsApp Mandami un messaggio su WhatsApp L'ho mandato L'ho mandato Che palle Ma tocco, lo voglio prendere un po' io Che due coglioni queste cose Minicab, facevo Coso, l'automatico, cazzo No vabbè, ma non è che il fall è scasso Se tu che sei scasso a usare Eh, Gio, sai come no? Non l'ho mai usato Comunque se vuoi andare più sicuro che sei automatico Mettici il Reflex No, io, no, Reflex Se non uso l'orografico Fidati No, 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 l'orografico è rincula tanto Fidati Oh, qui facciamo una cazzata, tipo da sopra mi butto giù io Va bene Bella Bella Bella, raga, 4v4, mi raccomando Vabbè, vabbè Meno male, 4v4, cazzo Non 5v4 Twitch, Twitch, Twitch Poi senti d'occhio urlare Ma non sono io lo youtuber, però Non sono io lo youtuber qui Oh, ha rotto il cazzo sta Twitch Ti ha offeso? Ti ha offeso? Vi devo andare a mangiare 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 Forza, bevite tutti 5 secondi left Io lo picchierei, Bartolo, fossi te Si Non abbiamo un valichine che poteva riparare Marco ti saluta, ma, Gianni Marco ti saluta Non ho rinforzato un cazzo per mettere il trappolo di cacca Non mannaccio al cazzo Oditemi quando sono tipo la finestra di sotto di voi No, ha rigambiato, ha rigambiato Solo che parla a basso, lui parla a basso Parla un po' basso lui Raga, io devo andare a mangiare, non so voi Io dovrei quittare, ma No, tu non acquiti un cazzo, tu finisci la cosa Vabbè, facciamo perdere, mangio tardi Infatti, tu puoi vivere sette giorni senza mangiare Oh cazzo, non riesco a si può sparare un drone C'è un cazzo di nessuno Signor Alexander, lei mi deve dire se c'è qualcuno là Così mi tuffo Mi tuffo proprio a cazzo duro mi tuffo Un è caduto sul mio capcan Un è caduto sul capcan Eh, di là, di là, sono entrati Dietro della cucina Dietro dove sta la... c'è la figurifera È la macelleria Si c'è dietro alla macelleria A me ne mi dici se c'è qualcuno Se c'è qualcuno qua Tipo sotto di me Cazzo, sento uno scudo Aspetta, 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 aspetta Eh, stanno là, là lì Stanno sotto di te, Stan Hanno beccato il mio capcan Ecco, vedi? Ecco, Alexander ha deciso quello là qui, il capcan Era bendita Bendita è morta Dicevi, Marco, che ha? Eh, devo andare a mangiare, che non mi temi niente Ma solo termai Termai tu non è morto Tu sei morto? Scusa, finisci il round almeno Anzi, no, vabbè, se no vai No, no, finisci il round Ah, merda Finisci il round adesso Cazzo Eh, chi cazzo è? Twitch o è nella zona bella di là, dall'altra parte? Ah, che figlio Vai, Bart, vai a mangiare Dovrei andare anch'io a mangiare No, tu non mangi, tu muori Cioè Tu muoio Per cazzo, Bart, però, devi andare a mangiare un po' dopo, per cazzo Signor Alexander, lei mi deve osservare Se mi esco da qua Riesco a uccidere il tizio che è dalla finestra dall'altra parte? Cazzo No, no, non riesco, non riesco Vai dentro, coglione Vai, è rimasta Non lo so, guarda qui Qui c'era lì, eh? È dentro È dentro l'obiettivo È dentro l'obiettivo È stato fatto solo qui Si Come sono rimasto solo io? Si vede tantissimo Dovevi entrare dall'altra parte, però Vai, entra No, guarda, adesso vuoi Entra No, entra da qua, per forza Ormai è... Oh, poco tempo Capcom, dove è finito? È Barcholino No, almeno è dentro l'obiettivo Non è neanche dentro l'obiettivo Oddio, cane, no No, eh Ehm... Vai, cioè Vai, alzati Per forza Cazzo, è un quadaver, quelli Non uscire Fai schifo Si, Bart, pure temo Non potevi metterti dentro l'obiettivo Figa, no, eh Ehm... Ehm... No Si mica, dili portarti il piatto nella stanza a mangiare Ehm... 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 Chiamalo Ehm... 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 Chiamalo anche tu, che cazzo del mio Ehm... 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 Lo sparano... Dovrei andare anche io a mangiare No, tu non mangi, già tu finisci qua prima Tu non hai capito un cazzo della vita Ehm... Che devo mangiare Zio, ti porti il piatto qua e te lo mangi Ehm... Ehm... Inestrone qua Ehm... Vedi... Sala Mi cazzo Tu devi trovare il container biohazard Ahhhh... Dai, se... Quando torna Bartolino me ne va a dire No... Ehm... Intanto io con lui faccio il libero poi Il container biohazard ha stato stato trovato Vediamo questa classificata almeno di okane Così Mi scu... Ehm... 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 Tipo un 4v4 diciamo Se... Ehm... Se ritornasse Bartolino Ehm... 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 Possiamo vincere proprio... Non abbiamo nessuno Non abbiamo nessuno Non abbiamo nessuno Cavera, ferma Con pompa, Cavera Attenzione Ah, Zocco l'hanno vista Ah, fai schifo Ehm... Ehm... Vuole sponfilare Dei che Non c'è Non esce Zio, ho back Leva sta roba Vabbè Ehm... Ma andate, andate voi Andate voi prima, poveri Ma non viene buttato fuori Per l'inattività Quello la Bartolino? No Eh? Ma tu puoi fare ritorno Che ne sai, uccidilo Fai prima, Zio Non prendiamo rischi Vabbè, no Zio, lo uccido io Madonna No, no, perché? Non serve Non serve Si, serve Fidati Eh no, perché ti... Tu fai il mio Tu fai il mio Tu fai il mio Minca, mi no Che ho fai uno scossa, coglione Dai, cazzo duro Io lo... Cazzo duro, c'è... Cosa col pompa? Non correre vicino a me? Sce... Bravo, coglione Lanciamelo addosso la prossima volta Mi sono cagato No Non so cos'è sto gioco Appena gente senti i rumori Ti pushano come Gesucane Puttana, signor Alexander Sei andato Però sei un coglione di merda Sei inutile al figlio Ma che cosa sei arrivato? Ti ho detto che stavamo andando sopra io Eh, senza coglione Lo che si vede in maniera permolato Aba, io vado a mangiare Sì Drum deep line One friendly operator remaining 15 seconds 10 seconds remaining 5 seconds Did not secure the biohatter container in time, mission failed 15 seconds remaining 15 seconds remaining 20 seconds remaining Grazie. Abbiamo bisogno di proteggere il contenitore di biohazard. Sperare il ruolo. Perché stavo sparando? Mi chiami in occhio, stavi per spararmi in testa, ti rendi conto? Mi sei passato sopra con il proiettile. Mi sei passato sopra con il proiettile. Mi chiami in occhio, stavo per fare un 1v3, ho ucciso uno, poi è finito il tempo, porco dio. Ma dove sono le casse qua, nella stanza principale, porco dio, che fanno questo burdello, questo burdello. Mi sento qua il drone. Mi sento qua il drone. Io vado al comodo di sopra. Non l'ho detto come la morte. Abbiamo perso il round di prima. Eh, cazzo, ti ho detto, 1v3 era, 25 secondi. Stavo andato a mangiare io, appena sono morto. Ma lì, cosa cazzo fai? Sai com'è? Quando mi butto così adesso da qua, non mi faccio il danno della caduta. Genius del cazzo. Mi pare che c'era un drone qua sotto che mi stavo guardando, il problema è quello. Sento un altro drone io. Buttati, buttati qua qua. Però usa il coso, salta da qua, salta da qua, salta da qua. Ma sparami un colpo. A piede. Sfermo. Veloce. A alto. A piede. Vai. Stavo per spararti un altro. Bravo, bravo Minocchio, intelligente. Porca Dio. Ti ho detto buttati giù e mi era meglio. Ma cosa che perdevo 3 per te? Un'intelligenza di... Perfetto. Questa la diamo colpa a missione Alexander. Certo. Che sono arrivato primo. Sai come ne ero io primo, ho perso i punti mandandoti a terra. Super ascolta, fa un po' sottoscuro. Cazzo, andiamo... Non dovete andare in due a mangiare proprio adesso. Vabbè. Appunto. Dai che si retrocede, vai, yeee. Si retrocede un oro. Un oro. Si, io non ho ragionato 3 adio cane però. Vabbè. Facciamo libere fin quando non torna. Io non ce ne ho mai fatto che mi chiamano a me, cazzo. Io in terreno non ho ancora finito di mangiare così. In terreno non ho ancora finito di mangiare. A me. Io non ho ancora finito di mangiare così. Io non ho finito di mangiare così. Io non ho finito di mangiare così. No. Ah. An. Un esitore. A me. Sì, è stato un luogliantero G11 No Now they accept it as soon as in the match finishes Holy shit Oh, fucking die F*** class non è vero Ma Bartolino, tornato, è morto. È morto. Sì, ma ti ricordo quello là per mangiare di me, a tre anni e mezzo. C'è il cappettino! Guarda la telecamera lì fuori, l'entrata principale se c'è qualcuno. Scusatemi per l'interruzione. Ho finito di mangiare, io sono vostro. È lì quitta, tanto muore. Cosa quitta? Sta zitto, si vince questo. Oh, abbiamo un aspettato... Ma non stava pagando conseguenze, è una cosa bella lì. Dov'è, dov'è, dov'è? No, niente, salto allarme. No, io ho visto questo drone, se mi colpisce una volta io sono morto. Ah, è Twitch, fantastico. C'è il cappettino di vita. C'è l'è dietro il drone, bro! Aspetta, no! C'è l'è davanti! No! Vai via! Ah, porco Dio! Ma scusa, come vi ho? No, aspetta, è stato bellissimo dalla mia inquadratura della telecamera, guardalo. Perché poi lui è passato davanti alla teleca... davanti alla porta... Ti beccando, è stato bellissimo. Che f***o c***o. Dai, andiamo, su, quicchiamo. Vabbè... Aspetta, prendo class e uccido tutto. No, no, tu esci e basta adesso. Lascia giocare in pace quelli esseri, esci. Ok, va bene. Gli lasciamo giocare in due perché... Cazzo loro. Eh, si viene. Ciao Cap. Viene o no? si su youtube se mai si dice a 5 minuti a 5 minuti ok questa è una cosa appena finisco e io avvio e ho un'altra persona che volebbe giocare inglese devo buttare cappettini fuori forse dopo perchè sennò siamo troppi eh sto invitando uno però parla inglese mi sa no appena ha commentato lì io ho scritto quindi ehi what's up man Ehi, Andri Eh, quanti, quanti Cazzo, siamo Esatto, Marco non ci serve più No, non ci serve più Che bella cosa, non ci serve più Che bella cosa Non ce ne frega un cazzo Non ce ne frega un cazzo No, non ci serve più Mi ha scavallato i Pringles, guarda che mia madre Ciao Andri Eh, io devo vedere chi tenere Io ho buttato fuori l'unico spettatore che avevo Ti rendi conto Eh, lui dice sempre Andri è proprio Se non c'è lui Non è una live Non hai capito un cazzo Sì Meno male, cazzo, mettono a posto il fucile di cosa, di cavera, cazzo, la pistolina, porco di eroe Ah, la pistola, sì, madonna, diventa baccata Mi mica, stamattina, gli ho sparato, a Sledge, gli ho sparato due colpi in testa e non gli è entrato uno Io ti faccio, ti leggo un attimo una conversazione che ha avuto con un tizio Allora Questo tizio mi ha scritto Stavo facendo una classificata Ero un alleato Ma sapete qual è il problema? Ma ho 5 minuti per la sanzione Ah, guardate che bella cosa Qualcuno di noi ha bannato Qualcuno di noi ha bannato delle classificate Oh Io, io Bravo Pasquale, Pasquale Senti questa cosa Praticamente Stavo in classificata Stavo con Marco E questo alleato mi scrive Go out, noob E poi mi scrive Fuck you Poi mi scrive Io gli scrivo Io la sono of a bitch Fuck you E poi alla fine Alla fine Gli scrivo For kill for them For them Who is the noob now? Ok, sì, certamente Io ho fatto 8-4 Lui ha fatto 4-4 Io ho scritto Chi è la? La pronuncia in inglese Bravo, Ali Adatela, sei soddisfatto? Sei soddisfatto? Sei soddisfatto? Sei soddisfatto? Ragazzi, oh Io ho una madre americana Ragazzi, c'è solo un problema Sei soddisfatto? Ragazzi, c'è solo un problema Oh Oh, ascoltate, leggi C'è uno problema Dovete abbassare il volume del microfono Porco Dio Se mi sono spaccati i timpani Dai, 4 minuti del porcaccio Dio Dai, Marco, smutali Ma come ora 4? Non era ora 3 Sì, cos'è scarsa Ho 4 minuti del Cristo Mi faccio un ritiro su questo reale No, ho fatto 3 classificate con Marco Ah, un'altra classificata con Marco Stavamo Eravamo tipo 4-3 Noi stiamo 4 minuti qua Ascoltare la storia di Ander 3 minuti No, sì Eravamo 4-3 Eravamo 4-3 Praticamente eravamo rimasti 2v2 Io e questo alleato Vabbè E altri due nemici Allora Twitch Eravamo in Clubhouse Stavamo in Arsenale Twitch stava da tunnel Quello che porta da garage Praticamente sparo l'indietro Solo che nel sparare Colpisco pure un po' l'alleato Vabbè Non l'ho ucciso l'alleato Solo che poi l'alleato uccide Twitch E poi l'alleato mi uccide E lui Perché aveva ucciso troppi nemici E' stato bannato E' uscito dalla partita E quindi abbiamo perso la partita Bello Quanto ti manca adesso? Ehm Quanto ti manca la squadra? Ehm 3 minuti Vabbè un'altra storia dai 3 minuti possiamo farli Dai 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 Un'altra storia Dai un'altra storia Sì sì Ma possiamo fare altre storie dai Quello lì del tizio che mi ha scritto Quello lì del tizio che mi ha scritto Mi sono incazzato un sacco Perché in quella partita ho fatto 5 interrogazioni con Caveira Mamma mia Mi ha fatto veramente incazzare questo Oh Barto ho una cosa per te Aspetta sto cercando sul telefono Poi te lo leggo Aspetta Sì sono un abbolo No no Ho trovato tipo queste rime qua Su Facebook no? Con tutti i nomi Possibili Più o meno con tutti Eccolo Non posso dirlo Perché sono a casa Una bella pizza col kebab No no Piacere Pasquale Mai sentito prima d'ora Guarda ti giuro Io Io mangio pizza normale Non pizza con kebab Signor Alexander Voglio che sia lei a dirlo In testa Più o meno con le donne Dopo tipo di video Non è una bella pizza Che pietra E' la mia pizza E' la mia pizza Non cazzo Però... E' la mia pizza E' la mia pizza E' la mia pizza E' la mia pizza Ma non cazzo Inocchio Morto Io sento lui che sta urlando le nocce Quello di un animale. Quello di un animale. Quello di un animale No, non sei un cazzo Non sei un cazzo C'era che c'era sto rumore Non può essere col maiale perché gli arabi non mangiano il maiale Dov'è signor Alexander? Lei ha morto signor Alexander. Dov'è morto cazzo Ok, vai, potete andare, vai, io la prendo il sangue Eh, ci manca il signor Alexander, aspetta Io mi prendo la coca cola che appena ho mangiato tipo un pacchetto intorno degli Pringles, quindi Hot and spicy erano Oh no no dai, non sai dire i marocchini dai Oh guarda che aggiungeranno i marocchini come operatori sul rainbow, eh Quindi non li spiego Io non sono marocchina, come io non scassa il cazzo No è il nome, hai il nome da marocchino Ho fatto la battuta per il tuo nome Non perchè sei marocchino Dai, che cazzo stiamo aspettando Ma non c'è Tutti i detti d'orchi Minocchio ci sei No, io ho fatto il tuo nome Io l'ho fatta Oh, ragazzi, signor Alexander, lei c'è? Legga il messaggio che gli ho inviato Però prima di leggere il messaggio devi dire Piacere Pasquale Poi leggi quello la Quello che tu ho scritto io Eh, siamo sette Ma aspetta quando me l'hai Eh, l'avevo appena mandato lì su Sulla play Marco, ti scarichi la prova gratuita di destini Ehm La cosa più bella del mondo, cazzo Perché no dai, io c'ho destini Magari ti aiuto Oh, sentite questa cosa Questa l'ho inviata a Riccardo Devi dire il piacere Pasquale Volevi dirlo Prima leggere il messaggio Calzone, Alie, Alie, vuoi sfottermi? Vuoi sfottermi, tazzo di merda? Oh, Pasquale, questo tizio in un server di Overwatch scrive Congratulazioni Congratulazioni a tutti i giocatori In questo match Un tempo limitato di loot box Press Alt più F4 No, ti chiudi la pagina Ti chiudi la pagina E quindi sotto sta scritto Casabar Germano Mosconi Porco Aspetta per i poveri No, no, tagli No Cicalito No No I tagliati in me Regà Non mi hai fatto niente Dobbiamo sfondarli Questi li sfondiamo Signor Alexandro, lei ha dato il messaggio No, no, uno, 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 uno Eh, devi dirlo Devi dirlo Io non posso dirlo Dirlo te Mi serve toucher Devi dire Piacere Pasquale Eh, Piacere Pasquale Oh, toucher, toucher Dio Cristo Oh, zetto Porco Vabbè, comunque Alt più F4 E infatti sotto sta scritto Sasar left game Lekmas left game Muzal join E che la gente non sa che è Alt più F4 Che cazzo serve, giusto? Alt più F4 Eh, c'è una riguota che non lo fa Ti fa uscire dall'applicazione Ti fa uscire dall'applicazione Ti fa uscire dall'applicazione Lo so! Ho detto due secondi fa io Che vuoi mangiare? Che vuoi mangiare? Che vuoi mangiare? Che vuoi mangiare? Marco Hai la coesione di scena Non è un problema, cazzo È tanto Non è una cena romantica, eh Sta giusto il mio occhio Adesso concentrato sul gioco Non lo so Andiamo ancora Infine Ok Ma vediamo questo run qua La R come scomporto Se ne metto l'85 Se no Ma cos'è? Tipicino Ok Ora capo scusa Ma cambiamo una partita in te Che caldo Perfetto Che cazzo stanno facendo? Dai, diglielo No È della parte mia, diglielo Guarda che fanno! Ho ciò stato parlando! Mi sono sui! Guardalo! Comunque devo dire C'è C'è Non lo so Marco 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 Ma quanti spettatori siamo allì? Zero Quello 1 che avevo l'ho buttato fuori dal party Sempre nei momenti più peri Ok, mi devo ricordare i tasti Poi non gioco a rainbow da Tasti Sì Sì Perché c'è i tasti io diversi Ci ricordi come si muove, vero? Sai come si muove, vero? Io, Andre, abbiamo il coso modificato Non lo sapete Noi siamo quei drop shottoni Noi siamo i drop shottoni Eh, anche io li faccio da zio Ho trovato anche i comandi adesso Eh, ho c'ho qua Ho c'ho qua Eh, ci avete due droni qua fuori, sai? Ti senti? Aspetta un attimo Arriva, arriva Se come uno si butta fuori da qua siamo morti Oh, attenti, da qui Ottimo, lo sapevo Da dietro? Da dove? Eh, c'è legion qua Legion, legion, legion Attento da dietro, eh Puttana, mi hanno pushato da tutto Lo sapevo Ci avrei scommesso Ma voglio vedere io in difesa dopo che cazzo fa Voglio vedere io in difesa In difesa non so, io già ti cazzo E Andri il drop shot l'ha covacciato Drop shot Vabbè E' vergognoso quella roba, Andri Quello che hai fatto prima Ma, no, dai Non è vero Ok Com'è possibile Andri Andri Quel drop shot che hai fatto prima da covacciato E' una roba illegale Guarda! E' bagatissimo Ma non anni Ma non anni, raga Ma non anni che livello è? C'è il 65 Ma non anni Ma avresti perso lo stesso Andri Perché di voi c'era ancora Germano Molto Vabbè, vabbè Un porco dio ti arrivava addosso E' rimorto Allora E' mo' seri però C'è abbiamo Abbiamo scherzato ora Ma abbiamo scherzato a mo' seri Non me ne feca un cazzo Si, Dio, calma Mi hanno inculato tutti gli operatori che usavo Marco mi ha inculato l'altro A Ela Porco dio Vado su cavera Mi ha inculato pure quella Marco mi fa un piacere Perché siamo anche in classificata Eh no, non ce ne frega un cazzo Gio lo tieni mutato Basta Zitto Oooo Porco dio E' un Bartolino triggerato Ho smutato Gio' zocco alla voi Allora, io credo che ora Ho già dei panni girato nel gioco di merda Faccio mettere voi a fare I coglioni pull A bullizzare Ti bullizzo Calma Tengo smutato solo che Alie perché se nonna c'è un cazzo cocavera Ho bisogno di sentire Bravo Io non metti di là adesso Barto durante il round puoi abbassare il volume del microfono che non si sente un cazzo quando parli Ok, ora va bene, ora va bene Un pochettino ancora sotto Va bene Sì Va bene Sì Per me va bene Non chiudereci dentro ELA di merda che cazzo sta facendo ELA Ho messo la telecamera fuori nel corridoio Ho un Twitch qua, Bandit di merda torna Bandit metti le robe qua veloci di nuovo perché Twitch l'ha distrutte No no no, subendo touch Eh c'è la telecamera, puoi guardare dalla telecamera, gli ho messo fuori la telecamera io Ok già termite Sì, sono tutte sulle scale, chi è che sta chiudendo ovunque, Dio cane? Mi avete chiuso la porta in faccia, porco Dio ELA di Marco Mica Marco Dio cane, quante sberle in faccia, Dio porco, c'è esce da lì fuori Eeeh, c'è avete Termite e toucher lì fuori Senti Barto ti dico quando mette la carica, aspetta, ho la telecamera ancora là Te lo dico io, te lo dico io Tu stai pronto lì con una cosa Ti cazzate abbastanza eh C'è Marco, Dio cane, puoi chiudere ovunque, Dio merda, mi hai chiuso in faccia la porta, Dio porco Vabbè tanto tanto c'è la telelacan qua Eh sta guardando io, tranquillo Bravo signor Alexander Barto stai pronto con la pistolina, ti dico io quando entrano Sono volbangando adesso No Ma dai Andy t'ha preso il volbang, t'ha preso Ciao, ti ho un quarto di vita Ibana, 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 Ibana porta principale Signor Alexander da lei C'ho quarto di vita, attento Xander che dovrebbe venire, cioè a sinistra c'è Thatcher No, è Ibana Eeeh, Ibana che ti sta pushando, Ibana, 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 Ibana T'ho spuntato, ho puntato Ibana adesso, vabbè, Thatcher anche lui è lì E' entrato tutti là E' entrambi da Minocchio, da signor Alexander, bravo C'è un altro là, c'è anche Thatcher là No, sta in corrido, eh sta lì, sta lì, dovrebbe stare lì, sennò fa il giro da scale dietro E' sta dronando, ha dronato, ha dronato E' nel corridoio dietro, quello principale Da dietro L'hai shottato, cioè l'abbiamo lasciato pochissimo di vita Sì, però Marco, dia Marco di non chiudere ovunque Dio Cane Che ero lì che stavo buttando la telecamera a voler entrare Se lo smutti magari glielo dici tu L'ho smutato, è lui quel coglione che è mutato, che cazzo vuoi? Coddio No, ti ha smutato Coddio Chiude tutta la mappa, tra poco quello là, porcoddio Non so Oh, Andrew io tengo solo te, ho smutato, scusi, magari sento qualcosa che cammina Porcoddio Io praticamente mi sono fatto inculare come un comune perché c'ho Questo weekend sono stato a mio padre, quindi non ho giocato tutto il weekend Quindi ho le mani non pronte Ma non so come cazzo dire, cioè Fredde, ho le mani fredde Oh, cavera, ma io che ti ho fatto, cavera, che ti ho fatto, cavera Sono stato un coglione però potevo interrogare Twitch Cavera Ciao Si, cavera ha aperto quella porta, però non credo che Non vediamo che È un po' di potenza Ehm, deciditi che che deve entrare Segui qualcuno che venga dall'altro lato Segui qualcuno che venga dall'altro lato Segui qualcuno che venga dall'altro lato Spera aprire il muro. Tipo, te c'erei Ibana. Eh, vengo io con te, vai. Ci scontriamo lì sopra, dai. Vai. Ok. Ok, mi serve Ibana. Marco, vieni qua. Uno spacco, dai. Qua. Alla porta. Se no io devo entrare. Infatti, muovi. Cazzo, c'era Jager sopra. Jager qua. No, no, Nanny è morto. No! Ma dai, stavo all'Igermann. Stavo uno su scale. Stavo su scale, Alexander. No, vabbè, è una hacker. Pasquale, stai facendo uno, due. Ma che cazzo devo fare? Non è colpa mia se stavi da solo. Io stavo con Sander. Savi tu che stavi da solo. Non è che ti dobbiamo mettere il ciccio. Non è che ti dobbiamo mettere il ciccio in bocca. Sì, l'hai preso in testa. Ottimo, l'abbiamo sparato sia io che Xander. Vai, cazzo. Spacca il filo spinato con la granata. Vabbè, ce la fa a spaccare. Oh, non c'è neanche dentro il bizzio. Secondo me sta sopra a botola. Cazzo da questa roba. Capra, capra. Eccola. Vai. Porco. Porco Dio. Infatti, infatti, io volevo ricaricare il pompa, dio cane. Madonna, c'ho il cuore a mille. Asp... Respiro, pausa. Respiro, asciera. Mi prendono sempre in tasso direttamente, porco Dio. Ma le che ce l'aveva la sera di merda quello. Tagito. Mamma mia. Ah, cazzo. Non sarà stato l'orecchio. Porco Dio. Oh, Madonna. C'ho le gambe che stanno tremando, dio merda. A mille. Oddio. Ti atteggia perché fa 4-3. Brava. Sto atteggiando. Ma lui dice... Gli atteggiati, so vedi, 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 so vedi. E infatti ho rotto la finestra quella vicino alla bottola, è vero Coglione lui Mica io stavo mi ero messo lì a ricaricare, se mi chiamo scendo l'ho matto con il pompa Solo che c'avevo il pompa a carico io Oh raga, eeeh Varicate dentro Eeeh ragazzi Arriva il nuovo rinculo Mica con Caveira ci sta un bordello quella rinculo La Desert Eagle lo farà sempre cacare Esatto E' arrivata Twitch di nuovo, ma ti rendi conto quanto è scascoglione qua, porco dio Zoccola di mera, sono state lì a rompermi i coili Eoh è entrata principale Dov'era? Ha uno di vita, ha uno di vita Asha E dov'è 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 dov'è? Va bene, va bene, ha uno di vita E dov'è dov'è? E dov'è? Va beee bravo doc attento c'è hash sopra è sopra io lo aspetto qua ha uno di vita quindi bravo c'è anche hash attento però hash sta da come cazzo? oh sh 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 da qua ma perchè la tua fucile larga? zitto zitto sta correndo vicino a me, dove cazzo è si 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 sta lanciando l'assordente no oh no termite non ha la attento sta spaccando filo spinato ho shottato vai e sento uno scudo sto facendo quattro 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 ho fatto quattro assist ma che cazzo Bartolino voleva uccidere tutti per uccidere qualche lage madonna tra poco ci ammazzava pure gli alliati lui 1150? ah 115 0 scusami 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 comunque lo sai Marco prima io ti ho ti ho ti ho ti ho ti ho ti ho ah si ti ho vendicato ti ho vendicato quando ti ha ucciso bandit col pompa ti ho vendicato ti ho vendicato dall'uccisione di nonno nani che sta facendo il miglior risultato poi c'è germano Marco perché sento la tua voce che lagga ma tu hai cambiato cuffie due volte ma le cuffie che usavi un secolo fa prima di sono dove erano prima sono sempre dove erano prima dove eravamo noi prima erano le cuffiette perché quelle non laggavano cristo e adesso andranno sulla bottola di nuovo si attenti alla bottola dire attenti alla bottola che hanno rotto dentro l'obiettivo e sopra la finestra hanno rotto il pavimento sopra quindi se entrano alla finestra sparano tipo da sopra quindi muoiono subito c'è l'esion va bene l'esion ha un 90 di vita dopiedi alexander di non entrai dalla finestra che c'è dog che sta guardando qualcuno va sopra no io sono sopra orato io sono di sopra e sto cercando di andare da sopra ma io sono di sopra C'è Mute che sta guardando da sopra No, dai, ma non crepa Io ho detto di non entrare da là Ha due di vita, Lesion Raga, Jäger sta in porta principale Marco, la botola, attento Guarda che basta Mieger ha due di vita Raga, Jäger Raga Ehi, c'ho smoke qua sopra Lì, devi liberarsi di quella zona Ehi, c'ho smoke qua Non ho neanche il drone, aspetta No, non ho neanche il drone, Dio, canna Mi ha detto, ho pure il drone Devi di entrare, devi di entrare Cos'è sta cazzata Ragazzi, ho fatto 6 assist C'è Mi, 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 mi Minchia, Buck, Dio, canne Raga, Buck me lo porto a casa tra qualche giorno Ma, 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 ma Guarda che tutto l'ho fatto io, eh, il rischio Il rischio l'ho fatto Attento, io ti stavo sparando il culo da sopra Che c'era smoke lì, pronto, che ha sparati in faccia Io sì, senti tutto rotto Era sopra di te, ti stavo guardando lì E aveva rotto il pavimento ovunque Eh no, capito nel senso, sei riuscito ad ammazzarla qui Lo sai cosa aveva fatto? C'era, io non riuscivo ad entrare nella stanza, perché? Era Platino, non anni, Cristo Oh, sai cosa ho fatto? Tipo, ero lì che stavo cercando di entrare dentro quella stanza dove c'era smoke Sparo con tipo, hai preso nel pompa di quella lana Ragazzi, aspettate un attimo, io esco un attimo dal party e rientro Stavo sparando con il pompa di Buck, no? Solo che c'era un pezzo di legno in mezzo a tutto il buco Che stava tipo volando E non mi faceva entrare E non si rompeva neanche E' che hanno dovuto buttare una granata intera per romperlo Ehm, raro, raro Perché sta scritto Trempo? No, aspetta no, il pacchetto, sto prendendo il pacchetto, dai Ehm, I'm sorry La mappa è cinese, da quanto tempo che non gioco E' giapponese, è giapponese No, per me è cinese E i giapponesi non hanno così tanta tecnologia per, tipo, avere un bug Sono giapponesi, ma sono giapponesi Dove andiamo? E' pure artificieri, perfetto Allora dappai, vai, allora dappai Ma come art di cieli presidio? Aspettatelo Mamma, capita Vabbè ragazzi, allora Oh, cazzo duro andiamo dai Tutti gli operatori lenti Tutti gli operatori lenti, tranne quella obesa la Oh, che fortissima Amici c'è che Valkyrie fa schifo Fate, fate una gang, facciamo una gangbang Oh, dai La, la NPC va bene Non è così brutto, dai Lo spazzo nella bestia Lo spazzo nella bestia E' un'altra bomba Eh, tu Ma l'unico bomba che mi piace, in generale Poi ho uno spot per Gensha che voi non avete niente idea Ehm, Bartoli, vieni qua Bartoli, vieni qua, ti dico uno spot per buttare la gran... eh, il coso Chi ha che ha Valkyrie? Eh, Valkyrie, vieni qua un attimo Sì Puttana Vieni qua Andri, devi buttare qua il coso, la telecamera No, ce n'ho un altro molto più bello, là, guarda Guarda, c'è le rally, guarda lo spot, guarda lo spot che muovi faccio, guarda Guarda che, devo metterle a mine, sennò qua morite Guarda, io c'ho un rinforzo, lo metto qua No, no, non chiudere, non chiudere Guarda lo spot che mi sono fatto Oh, raga, io vando in giro Cazzo, sono tre pompa, chi è? Ah, è Bartolino, mica mi sono scagato addosso, Bart Oh, raga, vanno tre qui, sono tre Oh mio Dio, ne andrà di due Aspetta Cazzo, li sento tutti davanti a me Cazzo, li sento tutti davanti a me Porco Dio Bartolino, sto andando a fare una roba molto pericolosa Sì, raga Tutti e tre Ma dove, non ho capito da dove siamo in casa Sì, sì, sì Zitto, zitto Nooo, Blackbeard di merda, Blackbeard Oh no, ma che cazzo Blackbeard tarocco Vai a metà vita Attento, è lì Blackbeard Bravo Scappa, scappa Scappa per la tua vita Ma dove sono? Sono di sopra Sono sopra, sono tutti sopra Sì, sono tutti sopra Sì, è sulle scale, esploda Sì, è sulle scale Eh, mi sono beccato anche la stonda Guardalo, guardalo Ossì C'è nel canistra Better non esce Eh, lo sento qua, lo sento, lo sento Eh sì, è lì I know what you want, d e lo sento, lo sento, lo sento, la sento qua You better don't ask F***** laser sights Vai vai vai, gli hai fatto il coso, lo scudo Ma è stupido questa cosa, ma è stupido C'è anche un alfredo che che ha lasciato da un lanetta Ah, dentro l'obiettivo Oh, attento alla granata Entra dentro So che entrerai da qua Dai, ho sparato, dai Dai, ho sparato, mannaggia tì Sono due colpi, sono due colpi però Non vedo l'ora che esce il pompo Ti immagini, ti immagini Se avevi il pompo, quello nuovo Quella che esce nuova Era dentro il pavimento Era dentro il pavimento Era dentro il pavimento Mi serve qualcuno che viene con me Io vedo benissimo ammazzarlo da sopra Faccio penetrazione e lo prendevo Tra noi tutto quel tempo Aspetta, mi serve Ali, vieni con me Vieni con me su Da statu a drago Metto semiautomatico dai Aspetta Ecco, bravo Eh certo Così avete un glance Ma no, per forza devo mettermi toucher Non posso mettere niente Hai capito dove voglio spaccare io, Pasquale? Forse ho capito La stanza La stanza Gansha vuoi spaccare La stanza Gansha Ho capito Io Gansha con uno spot bastardissimo in difesa Che poi neanche avete idea L'ho imparato Io e Marco l'abbiamo avuto contro Marco ce l'hai presente Con lo spot basta che si faceva smoke sempre Sai cosa ci sta da fare? Il tuo drone, portalo fuori Quello sul pavimento Si faceva il buco da sotto dalla cucina Si faceva il buco sopra Se spaventavi dalla finestra Lei cosa ci sta da fare? Pasquale Vanno per Spunk, il raga fanno per Spunk Attenti, vanno per Spunk Io devo supportare Io devo supportare No, ma non so spunk l'Andrea Andrea Attento il Spunk Perché Thermach di solito ha le cose Allora, Andrea Tu sei Thermach Non puoi rischiare Ok? Ti ho detto Di solito Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni con me Eh infatti Regale, li sento uscire Comunque, Andrea No, Marco devi venire sopra con noi Comunque, no Andrea Io metto sempre le cariche con Con il Toucher Perché è solito il Thermach Eh la Claymore Eh, Thermach alla Claymore Che è solito il Thermach E io ce l'ho la Claymore Il problema è che servirebbero due Claymore in questa zona Perché possono uscire sia da questa finestra Che da laggiù Eh ho capito Ho chiuso a me Era raga Non era andata Qualcuno che passa No, aspetta, aspetta Usa la mia, usa la mia Usa la mia Usa la mia Usa la mia Eh cosa? Passa 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 da lì Vai, passa, passa Ragazzi, se mi dite se c'è qualcuno dentro l'obiettivo E poi provo a fare qualcosa da sotto Spaccato Tu coprivi un attimo Io ho il drono Vai Vai, non c'è nessuno Vai 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 E dia a Marco di entrare Dio a Marco di entrare se non c'è nessuno dentro Vai vai Vuoi entrare Marco Spacco Spacco corde Dovrebbe essere nessuno in teoria No Marco, ma Andri Penso io Penso io C'è le cariche Vedi che servono le cariche? Vedi che servono? Agito Sì A meno male che c'ho le mie cariche per spaccare Marco Però bisogna che qualcuno mi copra Aspetta, fai vedere se stanno sulle scale Eh Marco, aiuta, aiuta a Terme Marco Qua Andri Cosa faccio con te io? Dove vai Marco? Voglio entrare se mi dai una mano Vieni Vieni qua Ragazzi se non sbaglio stanno tutti e tre dentro l'obiettivo Io spacco qui guarda Spacca 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 qui aspetta Sta Jager camperato qui eh Ve lo dico Vai Qua davanti eh Da qua davanti proprio Puttana Capcan Nooooo C'è un altro Capcan aspetta Nooo No sta qua sta qua sta qua Diente sta qua 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 Oh non crepa C'è acceso col punto Io sono entrato sparando a casa Esatto Lui è entrato così Marco ma tu non devi mai rischiare col montagna Solo quando sei al 100% sicuro Dove andiamo? Di nuovo salata da te? No Cambiamo Sempre nello stesso punto Doc o rook? Nessuno Prendi io doc Prendi io doc Prendi io doc Prendi uno Veloce Prendi rook Prendi rook C'è un tipo Dalle 5 metralletti Sai quanto ci stai L'ortacianca Veluce L'ortacianca Veluce Con due torrette madonna Ti ne dico uno contro il boss Poi Gli rompono una Lui e tira poi un'altra Porca dio Chi è che ha un pompa? Ha un impatto se ti senti va Tu fai pompa Marco Allora Ok allora ma ti spiego che devi fare Lo spazio che devi fare Allora Tu proteggi Gensha No devi proteggere in Gensha Allora Ragazzi rinforzate Devi andare sotto la cuscina Vieni qua Marco se puoi entrare in Gensha Ma fa un culo se entra in Gensha Cazzi fosti Cazzi fosti Ho già rinforzato in Gensha No in Gensha c'è uno spot buono per difendere Senza rischiare il ruolo Ah si lo so Devi andare sotto la cuscina E farti il buco alla porta Che spaccano sempre col Thermet E sull'altro E la finestra Sempre Sanno sempre Ah C'hanno il Twitch E distruggetela Prima che Manda puttane le mie mine Eh Tu devi andare sotto la cuscina Sono da me Sono spawnati dietro di me a cazzo Sento un bug Ah qui c'è uscita Ssshh Sento un rampino vicino Alexander Hai messo tutte le drappole Le hai messo tutte le Ah lì io sto vicino Sì 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 Quindi dimmi se hai bisogno di nuovo Sì 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 Ma basta che mi copri Da dietro che non mi viene nessuno Io sento gente a guarda Il mio fianco Sono sotto scale Su cammi il cazzo Zoccola Via da qua Zio sanno che siamo qua Via C'è un drone C'è Twitch Zoccola C'è un drone Ok Ok Qua è aperto Oh Entri madonna Perché lì c'è una finestra Quindi Ok Io stavo guardando se ne ha discusso E porco dio il drone è di merda E porco dio il drone è di merda Termite attiva Nessuno viene Andrea Andrea Mi cazzo Andrea Terra quello Termite a terra C'è esce lì dietro Una Dietro Ti droghi Andrea ti droghi Vabbè entra più di lì dentro Si cambiamo l'obiettivo Prima C'è qualcuno dentro l'obiettivo Aiutatemi Voi che cazzo fate Eh stavamo cercando di entrare Sai come ne esce dall'entrata All'entrata Termite l'ho mandato a terra con la carica Ti rendi conto Eh ma oddio Gli ha dato la kill Gli ha dato la kill Gli ha dato la kill Coglio Con calma Con calma Gli ha dato la kill Porco dio Ah fanculo sto qua Il semi automatico Allora Capisci mi Vieni con Con tutto il bordello che fanno Capisco metà della tua voce Perché il tuo microfono è a basso Gli altri c'hanno tipo il mille Oh adesso dimmi Decidi mi cazzo È troppo basso è troppo alto No no è Barton Che sta urlando quindi Eh quello a destra era Termite che era Eh l'avevo visto Termite No lui era terra Termite che era terra Avevo visto una freccettina Nella stanza destra E quindi avevo paura di Vabbè No c'era Ash che era dietro Tipo praticamente era dietro lì da Sono urlando Io sono andato lì a uccidere quella la Uccidere quello di Uccidere più non mi spotta frost sono così come ha fatto a drago eh occio lo spawn qui perchè ti spawni la madonna ah li vieni con me dai eh zio se spawni tipo in culo ai lupi cosa devo fare io eh ma io sono spawnato di qua perchè io voglio andare qua occio guarda che l'hanno rosso guarda che l'hanno rosso l'ho presa in testa vaffanculo qui ho visto l'ho presa in testa vaffanculo dai su vaffanculo no dai no dai scolta l'ho presa in testa sbacca sbacca no dai dai non gli stai sbacca 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 debba di non andare avanti che ho lanciato una granata sbacca 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 Eccolo, l'hai visto? Ah, finalmente, cazzo, è crepato L'hai visto? Madonna lì, la reattività di un culo però Sta dentro il bettio, sta dentro il bettio Divi che non ha vita, non ha vita, non ha vita Ha 60 di vita È dietro il coso, dili non pushare Ha 60 di vita, l'hai preso in testa a vostro voi Ha 60 di vita, quello che mi dice il gioco ha 60 di vita È lì dentro, dili lì che è dentro Non sboggerti tanto perché Borto ha 60 di vita, è dietro la colonnina dietro Dove eri te, dove eri mordo te Guardate l'altra parte Diti guardatemi il drone, diti me se cambia Aspetta No, io lo sento ancora là Grande Borto Pasquale è un fire in questa partita Troppo folle L'R, cazzo, Marco L'R fa queste cose assurde Non so come sia possibile Voi non potete capire in che situazione io mi trovavo Mi trovavo in quasi una tripla collateral Quando mi hanno ucciso e mi stavo trovando in una tripla collateral C'erano tre persone Tu devi vedere Come non è morta quella puttana l'acqua Gli ho sparato due colpi in testa Gli sono entrato neanche uno Mi sono dati fia, ti provi Mi sono dati quelle cose assurde Minchia, gli è rimasto 60 di vita L'ho colpita tre volte in testa Stavo sparando come Gesù Smoke o Bandit? Ah, Bandit 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 Non ancora quella scazzo di stanza Ma ce l'avete proprio C'ho l'impatto oltre il lancio da qualche parte Ma ho notato che da Gensha non entrano questi Ho notato Non entrano da Gensha questi Entrano, entrano Entrano Asha stava da Gensha Asha stava da Gensha Asha stava da Gensha Oh, io non riesco a più uccidere Entrano più O da Da Dino Oppure Direttante alla balcone Oh, io non riesco a più uccidere Lo lo vedo Asha stava da Gensha Uno che chi tiene doppio in Gensha Uno che chi tiene doppio in Gensha Lo scomenta e non lo sconchino E' stato in Gensha Eh Non l'ho visto questo Non riesco a metterlo io quando lo difendono gli altri I penetrati Sì Bisogna il silenzio, Rattus Sì 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 Ma che bisogna il silenzio Sì 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 Era uno sotto tamburo Era parte Era parte Capitato Lo sotto tamburo Capitato da me? Sì 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 Attento No Ce l'ha capitato dietro O correvo o muoio O muoio No Cosa? Oh mio dio No No che cazzo Dove è stato ucciso? No Ma dalla finestra Ma che cazzo è? No Vabbè ha sparato un colpo Mi ha fatto headshot Dai Sì Sì Ma va Allora La porta Quella lì che sta davanti Da lì Hai capito? Sì Sì Sopra di me Sopra di me Sopra di me C'era un piccato dentro Sopra di me 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 andiamo da stato drago di nuovo ah ok ok vai sponare una torre aspettate un attimo fammi mettere l'acqua sponare una torre sto facendo 2,5 mamma mia sono in ufficio, perfetto guardiamo se è un barretto 10 secondi 5 secondi procedo al locale biohazard vai a andare da qua, da qua, da qua aspettate un attimo, la calma è appunto è che io spawno da qua così aspettate un attimo, io vado un attimo qua sotto ci vado io se vuoi ci vado ci vediamo ci vediamo ci vediamo Metti una carica irruzione Metti una carica irruzione Metti una carica irruzione Metti una carica irruzione Se non ce l'ho la carica dentro No ma dai Oh ma sempre Ma perchè li prendo in testa E non muoiono Metti una carica irruzione L'hai visto aprire? Che merda Oh è uscito è uscito Eh ho il pompa Che cazzo Sta su scale Cazzo l'avevo sentito Porco dio Vabbè Cazzo è Che laggata ha tirato bandit Porco dio Io l'ho preso in testa Aveva due di vita Cazzo Cos'era quella roba Ma non è mai vero C'ha la semina diamante Avete visto? C'ha la cosa diamante Ti prendo Ti prendo Ti prendo Che cazzo dai Dall'esion Quanti colpi Cazzo dai 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 Mister Ok raga Ma quando? Ehm Artificieri su costa Quindi serve lesion Per chi? No mi ricordo proprio Come questo Raga serve Lesion Ela Ok Bart Scusa Andr Andri Non so che cazzo Caveira Figli di Caveira Non so quali pure No Non ci sono andato gli ultimi a roma devo andare che due passi sono tre ore ma tu sei vicino alla milan game switch nooo Quindi, voglio coltura Nooo E se c'è un lesion nella parte lì? No, non chiudere, non chiudere Nooo Aspetta, sto giocando Un momento delicato questo Ehm, qualcuno che va da sotto Shhh, fate una dubbisola in silenzio Che ti fa... Bra distrutto Eh, grazie al cazzo, mi metto là sopra Shhh Ehm, stanno buttando robe Fia che è barricato tutto di nuovo C'era nata Che l'ho detto che arriva da la Mica, lo sento fino a qua sclerare L'ho detto che l'ho detto L'ho detto che l'ho detto che l'ho detto Rilogando! Da la finestra, se vedi Meno, sono ancora da te Sono ancora da te, minocchio Meno Sono ancora da te Ehm, adesso Adesso C'è anche se l'hai, c'è anche se l'hai C'è anche se l'hai, c'è anche se l'hai Ma che mira di merda c'è questo tipo Che non t'ha, che non t'ha Guarda che entra, guarda che entra Shhh L'hai visto? Grande Mi hanno rubato l'Ace Bartolino mi hai rubato l'Ace Bastardo Eh, mi stava urlando addosso Mi ha rubato l'Ace Mi ha rubato l'Ace Mi ha rubato l'Ace Eh, era... No, ma te lo giuro Era immortale L'ho preso in aria, no? Quindi era... Era in ferimento Stava volando in aria In ferimento Stavo sparando Tutto il Cristo non moriva Mi hai rubato l'Ace Eh perdonami Perdonami Perdona la mia insolenza Mi hai rubato l'Ace Mai rubato l'Ace Che capitale? Che capitale? Prendi il disinnesco Prendi il disinnesco Prendi il disinnesco Montani Eh... io eh... Se lo lascia Marco Disinnesco Vabbè Mi hai rubato l'Ace No, ma spesso Ma spesso è il Montagna che lo porta Poi lo lascia al leggero Quello all'altro risultato Che lo deve mettere semplicemente Mi hai rubato l'Ace Mi perdoni, mi perdonerà per... Ragazzi, io ho fatto 0-0, cioè non mi avete fatto fare niente Mi ha rubato l'Ace Mi ti abbiamo fatto fare niente Dai, la vedi? Sono qua, vai raga, andiamo a subire Barton mi ha rubato l'Ace Ma dove lo so? Ho visto su scale, scale, scale Mi ha rubato l'Ace, porco Dio Dai, però che schifo Davvero che schifo, Dio Eh, Capkan è un problema Infatti, fai schifo Dio, che non mi hai rubato l'Ace Capkan... Capkan... Non ce ne frega un cazzo di Capkan, mi hai rubato l'Ace La Claymore dietro, sennò fanno po' mi ha rubato l'Ace Mi hai rubato l'Ace Sei una merda umana Mi hai rubato l'Ace, sto zocco Andri, andri, c'è la Claymore Si, ce l'ho, ce l'ho, dell'Ace Ora metti la qua Eh, da qua Da qua, dove cazzo andate, raga, la bomba B Ma se, andate voi da là Ma chi è che mi sta seguendo, perché mi state seguendo, c'è Fuse qua, c'è Pulse Ehi, loro, sono loro che hanno il disinnescatore, non io, io sono qui per flencarli E attenti che c'è un bel Pulse che vi sta guardando, eh Finestra Wieger Come ho detto Oh, nell'obiettivo non c'è nessuno, se entrate C'è un buco proprio alla destra Vai Marco, sali, su Aspetta, Barco, rimani fermo così Ma se l'hai attaccato sul Vai, dirgli plantare, dirgli plantare Oh, c'è Buon, fermo così, Barto, fermo Pulse sta giù, Pulse sta giù Oh, ma plantano, no, questi qua Vai, planta, planta, dai, veloce Ehi, io devo commettere l'esmo Barto, non muoverti, ok, perché potrei colpirti Diffuser is online and active Vai No, ma tu devi stare sulla bomba Eh sì No, ma te non crepa Ma che balli non crepano Oh, sta lì, sta venendo Mi ha sentito sta puttana di merda, mi ha sentito cadere giù L'ultimo è Capkan, l'ultimo è Capkan Stai là, stai là, mi nocchio, stai là Vai Anche se non lo uccidi, ha perso Anche se non lo uccidi Vai A te chi ha rubato l'ace adesso, dimmelo Chi è che te l'ha rubato l'ace adesso, Marco Bene Marco, Marco, Marco mi hai rubato l'ace Sei una merda Barto, il tuo amico è come te, ruba l'ace, madonna Che vergogna Che vergogna Siete vergognosi Guardate, non vedo E poi tendri Siete vergognosi E poi ci sono io, non sto facendo 0-1 Eh vabbè Almeno non sto rubando l'ace, cazzo Sì, ma comunque non mori, comunque la mani non uccide mai No, no, tu rubi l'ace Tu mi hai rubato l'ace Esatto Spanella gente non muore, cioè Voi due avete rovinato l'ace, vi segnalo Basta Io vi segnalo, segnalo Marco Io Ma no, mi avete rubato l'ace Mi hanno rubato l'ace Mi hanno rubato l'ace No, regà, vi facevo una tattica con mira Mi ha rubato l'ace, mi sono diventino da me No, regà, mi sono diventino da me Non so, non so Beh, mi sono diventino da me Non so Io ne ho 0 ok ok i bagni, io guardo anche il bagno vabbè sto... Marco questa no merda merda minchia ho sai di vita e ho preparato come se non ci fosse un domani shhh AD is active in this sector shhh shhh andrey vieni da me ti disetto vieni qua vieni qua sotto da me andrey c'è Pasquale facciamo un c4 no no ancora lì fuori il thermite vai un altro dove sono tutti gli altri grazie uno è fuori qua è thermite quello allo spattato io guardate il ferimento andrey 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 sto cercando di oh oh stanno sul tetto stanno sul tetto stanno sul tetto stanno dove sta a botola eh dove diciamo è fuori finestra ah lì sopra il bagno sopra il bagno uno 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 rampinato boom raga guarda come l'ho ucciso prenditelo prenditelo ah lì come cazzo fai a essere a 5 punti sopra il bagno 5 punti oddio questa è una battaglia battaglia per mvp chi vincerà raga uguali uguali montagne vai un forum almeno montagne ibana con la flavor raga se metto i pringles sopra il coso la pizza secondo voi ci sta cosa? pringles sopra una pizza oddio è geniale ora lo faccio cosa? pringles sopra una pizza sulla pizza sulla bomba sulla pizza ragazzo non dove eravamo nemmeno eh l'ho mutato perchè serviva concentrazione dica donna ah che cazzo cazzo è muti a fare uno? no perchè stavi urlando molte persone dicono dokebi o zofia molti rispongono zofia lo sai perchè dica dica tutti i ninja sono morti dico che b invece ha solo solo l'M14 eh sì capito te capiii mi hai capito un cazzo xander mi xander xander forse io se lo prendo io o il diffuser e poi lo lascio a voi no se no anzi dall'ammarco 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 dai saliamo spaccate le cam spaccate le due cam bastate che salgo mettete una clamor qua twitch eeeh c'è che gardia twitch nooo cazzo il bandit sul filo spinato mi ha spaccato il drone a tutti l'ha spaccato oi no prendila 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 non ci serve raga ma non sono su b lord dove erano prima no stanno in attico no prendila 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 se cacca di cosa smirato ho paura che mi è scappata da lato ecco dai, dai, entri, entra, entri c'è un altro nel corridoio VEUTENTI e vai che cristo qualcuno non viene a risertarmi behže andrei mi butti giù con il drone e mi ri-e ehm e riali mi pi described Sì, siamo sotto di te. E qua? Dove stai? Sono sotto di te, vai qua. Buttami giù con drone e rianimami. Veloce. Hai messo il primo sopra il collo? Non ancora. No, ma che cazzo? No, che cazzo l'ha vista. Sta sopra le scale e in fondo, c'è il senso, sopra le scale? C'è il coso dietro, cioè sta dietro le scale. Non so come spiegarti. Eh, esattamente no, è in alto, è lì, è in alto. Sì, va bene, va bene. Dio cane. I'm sorry, Marco for life. Gesù Cristo cane, signor Alexander mi ha superato. Dio porco di cento punti. Ma dai. Stavo cercando di fare l'angolo giusto per buttarli proprio all'ultimo, mi è venuto in mente che mica la lancio così. Dio cane, eh, madonna puttana. Mica, vedo che prima di tirare fuori la granata stavo pensando Mica, se muoio così, quante bestemmie è successo. Siamo con lo... Dovevi premere il triangolo così si toglieva la granata. Eh, sai come ha i comandi invertiti, quindi Gesù Cristo. No, vai Capuccio. No, vai Capuccio. Sì, mi dà un passaggio. Ma comunque è lì, perché hai preso un triangolo? E sai come ha i comandi tutti invertiti prima che andavo su un triangolo, è meglio spreleva prima ancora, quindi. Sì. Secondo te perché non uso più pulso, non posso usare il tuo specialista perché cosa la devi prendere e andare in giro. E devo prendere il cerchio, e premere il seno è imprimuto il cerchio per andare in giro. Ok. Devo riportare qua. Ma un drone del cazzo qua. Spostatevi da qua. C'è un bel... Ok. 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 Basta la vista biacci. Andre, potevo... ho una granata in passio se ti levi. Non so, però no. Cazzo, cazzo, cazzo! Questi qua stavano rompendo la barricata ma hanno colpito. Ottimo. Cash fuori. No, 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 non la pusho manco per il cazzo, quindi... Non so. Ma che cosa... Ma che cazzo mi ha sparato, raga? No, non mi dire, dal buco dei droni! Fanno entrare, fanno entrare! Dal buco dei droni! Eh, è il putetto là, Andre! Oh, avete un hash che sta entrando nella porta principale. Eh, fanno entrare! Eh, sta entrando. No, dai! Ma che cazzo sta camperando lì? Dal buco dei droni, venga! Sta camperando fuori, sta! Guarda, ti ci... Pistotino! Pistotino! Sì, mica, ovunque vado trovo una persona. Sì, dai, sì, certo. Ma io ovunque vado, Cristo! Guarda, dai! Guarda, mi sono andata a puttare quando sto nervoso, guà! Sì, raga, noi li siamo quasi morti tutti, loro neanche uno. Per dire. Vai cazzo, guarda! Sfaro la caccia, ti piglia! Lo guardo! C'è dentro, c'è il defuser lì, c'è il defuser lì! Sì, ma non posso tenere d'occhio il defuser. Allora... Ma non dovete stare zitti qui, sto dirlo! Ce la c'ho più! Ragazzi, zitto, zitto, porco Dio! Zitto, porco Dio, un attimo! Poi mi chiedi perché ti muto, madonna! Guarda, che roba! C'è tolpato come un casino, ma cos'è? Basta, parto! Qui c'è ne frega, c'è giù! Cazzano, i miei proietti! Giano qua! Sì, vabbè, un 5 di vita, che cazzo voglio che ci vedo! Marto e Anto Chiglio! Dio! Ti dava la 5 di vita, che cazzo vuoi fare? Sì, che cazzo di mira aveva! C'è fatto un pure una G, c'è fatto attorno il mio nome su! Ha fatto la G! Ha fatto! No, che c'è, no! Ho regalato la G! Dovevo vincere, cazzo! Ah, lì non ti chiami quella G! No! Che cazzo dice? No! Che cazzo dice? No, ma tolgo, no! C'è, non tocchiamo la vita! C'è, mi sparavano, toglivo, avevo 18 di vita! Così! C'è, sto gioco di merda, come fai a vivere, c'è con 18 di vita, c'è impossibile! No, non voglio mettere le montagne, no! Mi metto il cazzo, mi metto il cazzo! No, non giuro su Dio che se muoio un'altra volta per colpa vostra, che sto da solo! Ma non è che se muori sempre, allora è colpa nostra! Ma no, è montagna e chi, perché muoio allora secondo te? Perché vai avanti a cazzo di cani senza guardare gli anni! Ah, anche a cazzo di cani! Allora, l'ipotesi di Xander mi piace molto, guarda! Ma se ti può faccio tinki di questo rato? Noi siamo dietro di te! Noi siamo dietro di te! Noi siamo dietro di te! Poi anche se muori, se loro hanno plantato, sei morto per una buona causa, ha capito? Beh, in buona causa è un cazzo pello! Capcom e Jager 2 Eh, c'hanno più che cazzo! Ma questo qua stanno impegnando, ma perché si impegnano la gente in questo gioco? Eh, c'è Bandit, non buttarti, questo qua muore! No, Andri, non buttarti, stai fuori! Quanto è che bello visual da fuori che c'hai! Oh, se entriamo dall'entrata là, ragazzi, se entriamo dall'entrata là del... 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 Possiamo... del B, no? Del B, no? La porta! No, del B! No, entriamo dal B, no ragazzi! Se entriamo quel montaggio da là, possiamo plantare Sì, esatto, quella là! La, 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 la! Ho detto, ah, prima! Coglione! La, 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 la! Prima lì e sulla là! La, la, la! Non faccio un headshot a caso! No, faccio un headshot a caso che non si sa mai! Guarda che... Lancio una granata, non passate davanti! L'ho atterrato! Eh, fosse il fristo, lì, fosse il fristo! Allora, faccio così! Io e Xander entriamo dal davanti e voi state dietro! L'ho atterrato, l'ho atterrato! Andri, Andri, uno, l'ho atterrato Kesson! Chi è che sparo? L'ho atterrato che lo chiede! No, no! In stabili eh! Raga, un attimo, un attimo, un attimo, che c'ho i ping puttane io! Ok. Signor Bartolino, dimmi quando lei... Ma te lo distribuo io, c'ho il coso, la granata, levati! Ho sposto, si, sposto, ti Bart, ho sposto, 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 ho sposto! No, no, scorri, corri, corri, corri! Cazzo, poteva lancire una granata, madò! Merda! Vai Bart! Capcan! Capcan di merda! Vabbè, aspetta, stai qua, stai qua, stai cosi, stai cosi! Eh, non posso armi davanti! Sta qua, tanto! Bravo! Che che c'ha il coso, il disiniscatore? Ottimo! C'è un muco là! C'è un altro! Ok, vai! Vai, planta, planta! Stai qua, stai qua, stai qua, stai qua! Stai qua, stai qua, stai qua! Muoviti! 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 Mi spacchi il filo spinato? Spacchi il filo spinato? Xander, spacca il filo spinato! Spacca il... Vabbè! Vai! Ecco! Benite la, benite la, benite la! Vabbè! Senato Huff, dunque! Non l'ho, non l'ho rushart! Non l'ho rushart! Non l'ho, non l'ho rushart! On for intro wise! Mantidii! On ds. Che scurro! Ho fatto 2-4! Geneticamente, pro finito, for the win! Un giocco, da minocchio! Boom! 10 kills! Poteteli! andrea 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 molto è stato molto utile simpatico e 4 un applauso a me la battaglia è stata utile cazzo con montagna se abbiamo messo di risultato era per lui quindi il cazzo sta zitto che io fate fate chi la marca si è zitto per tutti sia e non ho detto che siamo un utile al caso che caso vuoi voi al fatto che tolta grazie gesù grazie a me si spacchietta non me l'ha dato e ma volte dice che non lo puoi comprare che se errori io ho cominciato oggi a giocare con argento 2 sono ritornato in argento 2 ha detto sander via da lì di stare fermo io ho finito io ho finito